Buonasera a tutti. Questa sera sono stato invitato da mia moglie Susan di cantare una canzone sul karaoke. Io ho visitato diversi paesi, poi per diversi motivi ho spesso, e avevo sempre avuto il desiderio di andare in Asia, però la mia conoscenza dell'inglese mi ha messo un po' in pericolo in quanto viaggiare da solo in un paese che è completamente diverso dal mio, mi faceva parola. Dopodiché ho conosciuto mia moglie Susan e abbiamo iniziato a viaggiare l'Asia e soprattutto abbiamo viaggiato nelle Filippine. E questo ci ha permesso di riniziare, che poi abbiamo dovuto smettere per il Covid. Cantando questa canzone, spero che chi piace viaggiare con me, mi piace a me, e praticamente l'avevamo cantata allora prima di andare nelle Filippine, che ci dava la speranza di poter fare altri viaggi. E sicuramente l'avete capito che è una canzone di Bocelli, esattamente Con te partirò. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.